A Sottostandar Raffaele Corto A Sottostandar Raffaele Dux Hound A Sottostandar Dux Hound Rabbit Size Smooth Hair Dux Hound A Sottostandar Dux Hound A Sottostandar Dux Hound A Sottostandar Dux Hound A Sottostandar Dux Hound Pasotto Standard de Milo Lungro Wirehair Standard Daxhound Pasotto Karin che rapido duro Tre taglie per tre tipi di pelo, il quarto raggruppamento, quello dei bassotti Ovviamente tutti in finale, essendo questo raggruppamento sempre meno rappresentato numericamente Siamo nella categoria giovani Categoria che comprende soggetti che vanno dai 9 ai 18 mesi di età Possibile già per un giovane ottenere anche il migliore di razza Perché siamo già in una competizione molto alta Sempre tenendo conto che si tratti di un'espedizione mondiale Risultati quindi di grande ed alto prestigio Questa è una squadra 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 C'è un po' di questo servizio militare, però no, il protoracico può essere riformato. Infatti, perché viene misurata la possibilità di entrare in Italia e in che tipo di Italia? Infatti noi chiamiamo kanigen, che è il termine tedesco per coniglio. In inglese viene tradotto rabbit size proprio perché questa taglia così piccina è stata ottenuta copiando il bassotto con cani tipo pincerlano proprio per ridurre i diametri trasversali. Molto importante sottolineare come anche nella taglia più piccola non devono essere presenti segni di pianismo, ovvero il cranio non deve essere cruposo e gli occhi non devono essere sporgenti. Per cui lo stesso standard per tutte e tre le taglie, esclusiva differenza nella circonferenza toracica e nella tessitura e colore del pelo, a seconda della taglia e della lunghezza del pelo. Mi hanno pure conto che per mantenere le attitudini, questi cani per essere programmatiche per italiani, devono sostenere una prova di lavoro. Non è una prova prurinta, ma grazie a un'azienda di pelle si fa una prova in tana, pronte per garantire che l'istinto non aveva quella bassa stessa selezionata, ma che poi ha perso. Domani alle 9.30 riprenderanno i giudizi su questi grandi drink dell'Espodizione Mondiale di Milano e per i raduni di razza. Domani alle 10.30 riprenderanno i giudizi sui i giudizi sui i giudizi sui i giudizi. Domani saranno rappresentati i gruppi 3, 5 e 10, ossia i terrier, i cani nordici e i leoniri. Però alla metà di questo, ci saranno altri gruppi che verranno sottoposti alle verifiche azoteciche per quello che concerne i raduni di razza. Abbinamento questo di espodizione mondiale raduni di razza, che ci ha portato a poter contare 30.000 soggetti iscritti. A presto. 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 L'anno prossimo dovranno andare in Russia perché il prossimo campionato del mondo si verrà in effetti in quel paese lì. Fa sotto standard a quello duro davanti agli occhi del nostro giudice. E abbiamo ancora un po' di città, e questo è un po' di città, un po' di città. For being a junior, he was standing there at the table so professionally. Sì, infatti è una delle caratteristiche dei, non so, è proprio quella di avere un molto caratteri in un piccolo formato, poi quando avremo a vedere tra poco gli adulti in queste razze, parleremo delle differenze di caratteri, le grazie e le differenze di pelo. But they are very specific overall, among the dogs, and their owners usually say that that's not a dog, that's a dach's home. E vedremo anche tra i giovani bassotti quale si porterà a casa la mascotte della Federazione Cinologica Internazionale. Fourth place for the rabbit-sized long-haired dach's home. The junior growth, fourth place. Quarto posto per il canigen, a pelo lungo. This is miniature water-haired dach's home, third place. Passotto il nano, a pelo duro del portogallo. Piazza d'unore per il nano. Miniature smooth-haired dach's home. Ruggeria. Representing Hungary. And winner. The one that is coming back on Sunday for junior best in show and winning the FCI mascot is... Lo standard a pelo tono. Pitta di l'Italia. Standard wire-haired dach's home is the winner of junior group four. E adesso, velocemente, ci prepariamo per la finalissima dei bassotti per gli adulti. Vedo che tra il pubblico ci sono dei cineofili accaniti che vogliono aspettare giustamente a per vedere quale sarà il migliore passotto a rappresentare la razza al best in show finale di domenica. After the photographers do their job, we will present to you the last competition of the day, that is the world. We will know another finalist for best in show finals. Inizio al tiro dopo il finale sarà la best in show show, ma di quarto da domenica, quello dei bassotti. Siamo pronti per vedere quale sarà il soggetto scelto del nostro giudice, che rappresenterà i bassotti, diciamo, di età adulta. Alla best in show finale, che vedrà i dieci più bei soggetti presentati a questa mondiale sfidarsi per il titolo di best in show. Salutiamo ancora i nostri amici che ci seguono da casa. Grazie allo streaming in diretta, live streaming, animalnews.tv, animalnews.tv. In the meantime, I'll translate you. Thank you for everyone watching us at the Animal TV, Animal News. Grazie a tutti.